Cominciamo dalle squadre, quindi... Allora, buonasera, sta per iniziare il memoria Perino Vispi. Luisi Barbie, insieme a compagno Perino Vispi, daranno via alla G0. Luisi Barbie. Mi raccomando, Perino. Ciao. Papi, papi, così sperate. Per il futuro, rilassi. Vada in avanti, vada in avanti. Pronti, attenti, via. Papi, 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 partita la categoria G0. Dai Luca, papi. Ma lei è il Vini con il Tomassini? Sì, magari. A Maria. Poi, ti andiamo a fare la prova G0. Devi andare a fare la prova G0. Eh, sì. Volata finale per i ragazzi della categoria G0. Grosso avvenismo. Vai Filippo, vai. Bravissimo, un bel applauso, bravo G0. Bravissimo. Allora, tocca la G0 a fare la prova G0. Vai G0. Bravissimo. Bravissima. Emo vado. Fanno quarto. E poi fai l'olanda. Quindi ha vinto il belgio. E' 10 euro. Poi ha vinto il belgio. Ho comprato una cosa a parte. Ho colpato. Ho colpato. Sono due. Allora, io mi aspetto a fare. Andiamo giù per il prato. E' un rio, eh. Avvenzate su Mario. C'è. Ho la riparata. Sì, c'è. E' un rio. E' un rio. E' un rio. Buongiorno, va. Tira su. Oh, principessa, buongiorno, eh. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. E anche a me, dopo? Eh, dopo, dopo, però. Buongiorno. Attenti. Via. Vai, ciao. Vai, vai. Guardate la catena, giuro. Buon salto giuro. Appena un passaggio, ci sarà il suono della campana. Accordate le classifiche, eh. Sì. Il suono della campana è un passaggio. Buongiorno. 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 Questa è una gran cosa, vedi anche in diretta. Pedala, pedala, non ti fermare ricca, scusami. Stanno concludendo? Allora, guarda tutti i ragazzi, bravissimi, un bel applauso per tutti, bravi. Bravo, 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 bravo. Partiti i ragazzi della categoria G0? Allora, la G2 è la partenza, G3 è la verifica rapporti che avverrà tra qualche istante. E' la domanda si va quindi sotto il procedere e la verifica rapporti della categoria G2. Pronti? Pronti? Attenti, via! Partiti, sono partiti i ragazzi della categoria G2. Partiti i ragazzi della categoria G2. Dove lo farò fare? Abbiamo un 3, pari di battistrada. E' tutto all'indicato. Vai, 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 vai. Categoria G2 in classico. Dai, dai, Luca, guarda avanti. Quattro ragazzi. Stiamo, 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 bravissimi. Dai, 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 l'ho data qualcuna. La trovano. Stefano, c'è la borraccia del... Stiamo, c'è la parola. E' la verifica. la categoria G2 stanno transitarne in questo momento in zona campana Miramore lo sta per iniziare in brutto basura brutto basura 3 giri volata finale bravissimo un bel applauso bravissimo 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 Grazie. Ciao Tutto ok? Eh vabbè, meno male Ok Conti, attenti, via Partiti, partiti i ragazzi e le ragazze della categoria G3 Cinque sono i giri che devono compiere Massimo un bel applauso Grazie a tutti